Allora, eccoci qua, quarta e ultima piega, adesso io metterò via, cioè faccio un'altra piega poi lo metto via, darò una piega domattina quando mi sveglio lo prendo, lo metto in frigorifero o fuori sul belcorino perché c'è un freddobecco da noi e passate le... sono le 9-12 ore insomma più o meno quello che è domani mattina quando mi sveglio, 6-7 insomma quando voglia, faccio un'altra piega mio marito mi sta guardando perché non capiva con chi sta guardando va bene, quindi adesso una piega adesso e un'altra domattina ok? Allora, io giro l'impasto, qui l'avevamo messo così, lo prendo e lo giro ma non è importante quella è una fisima mia, ok? Io lo allardo un po', bene? senza farina, senza inumidirsi le mani qua perché se comincio a bagnare questa base qua puoi chiuderla, c'è da ostiare stessa cosa, 1, 2, ok? 3, 4 e rincalzo un'altra volta a metà e un'altra volta a metà, ok? buono cerco di chiudere metto via così e domani mattina riprendo, ok? domani mattina, ultimo video poi ci sarà il video della stesura che va bene, quello ve l'ho fatto vedere, lo stadio e la stesura lo facciamo che lo mettiamo tutto assieme, ok? ci vediamo domani mattina ciao belli ciao 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 ciao